a tutti amici benvenuti su questo mio nuovo video siamo su Age of Empires 2 non sono solo come avete potuto sentire c'è come mancus c il suo link è in descrizione sotto il video saluta comunque siamo qui in un bellissimo uno contro uno in cui perderò amaramente anche se nessuno dei due gioca da tanto tempo quindi vediamo cosa possiamo fare che nazione che il civinta hai scelto tu io ho scelto i persiani perché siamo in arabia anche se i persiani stavano un po più a nord ma siamo lì diciamo sì io ho scelto di usare non so che buono saranno i persiani adesso non me lo ricordo ma credo che hanno delle capacità anche quanto riguarda l'agricoltura non me lo ricordo non mi ricordo neanche io quindi a posto diciamo qualcosa senza tenerli come dire abbiamo raggiunto i 50 iscritti ho raggiunto i 50 iscritti quindi questo sarebbe come uno speciale dai congratulazioni io ho raggiunto 405 iscritti e mamma mia incredibile oddio tutto vado ti troverò un giorno avevo visto qualcuno qui dentro detto ma secondo me c'è qualcuno max è male e me e mi fatto manzo è questo devo riconoscere va bene ragà molti di voi anzi non su alcuni di voi nel mio canale che ha chiesto di portare gioventà e 2 ma ragà non ce la faccio ho fatto un video che non so quando pubblicherò perché io la faccio nel mio canale io li carico ma come so che vuoi mi iscritti setteretti principalmente quindi so che voi non avete molto tempo per guardare i video li lascio lì nel youtube quindi dopo un paio di giorni o addirittura mezza settimana di pubblico ok quindi fa i video rinasci su youtube ad esempio in privato e poi pubblichi quando tipo se non ho capito e ma vabbè ma è buono pure ognuno anche il proprio modo di di gestire la situazione nel montaggio taglia le parti musse che è meglio sì 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 una volta due di lì da una partita di geofrempires 2 di 3 ore in in quando ce l'avevo fatta in 30 minuti tipo cosa la so abituato come te registro sai cosa mentre sto registrando blocco subito la registrazione fermo poi gli appola poi cominciati stare perché sto che se non c'è poco lungo tipo adesso tu avrai un esercito mega galattico no se voi cominciamo a fare eserciti all'età da dei castelli se vuoi cioè di passare all'età inferiore passare all'età inferiore ci vorrà un po' di tempo se vuoi far uscire questo video più corto possibile passiamo direttamente all'età dei castelli e poi si combatte ecco per non far uscire un video lungo sì ma penso che faremo così perché poi ogni panetta imperiale e gioco un bel po' di tema poi quindi intanto io ti ho fatto una sorpresina non mi piace questa sorpresina a me dimmi quando sei pronto a passare a letta successiva eh sarò pronto quando avrò 800 di cibo ok da poco sto per arrivare a 800 quasi ci sono così arrivato lascia in me testa almeno qualcuno abbi pietà di me oddio eh non penso che avrai pietà di me sì vabbè ma mi manca una legna per costruire case ma 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 mi manca una legna pure per purirmi i sedere no non ancora come no mi devo fare no sta costruendo le no no ascoltatemi tutti tutti dentro da questa torna e suddice vediamo di sopravvivere ho detto vediamo di sopravvivere non di provare vabbè poi il castello mi manca un dio di rondello e non posso manco farlo perché mi manca giusto un po' di pietre un po' di pietre la mia distinzione è tetane ci hanno sconvitto ci stanno mangiando andiamo di addestrare un altro po' di tupe giusto quel poco eh non sia mai che i sogni no no ma no 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 questo mai dovresti andare di picchieri eh mi sto facendo dovresti andare di picchieri mi sto facendo come sempre non c'è cos'è il petardo? no sono curioso no il petardo è quello che ti fa spavano no ok addio a tutti oggi fuggite fuggite non fa niente che morite però almeno morite costruendo qualcosa non so perché io ho una mod graffa quindi non so se è quello che immagino io ha per caso dei baili? si ah ok ah ok è quello che ti fuggite ah ok appos ragione ti uccide cavalleria carica nanananana 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 proprio io è proprio il mio contadino qua che va nella torre di fiero proprio a me non mi ne imponta niente di quello che succede abbiamo perso sentiamo di scattarti ma vi vuote mi inizia a esce che cosa volete del mio territorio io vi uccido vabbè ragazzi penso che il video si concluda qui penso di sì tanto non può resistere poi sto facendo anche i petardi petardi ambipietà della mia popolazione no ok e non ti piccio con i pugni io ti uccido se vuoi fare te saluti o li faccio io li faccio io dai allora ragazzi è stata una partita leggermente vemole però sono stato anche in questo caso sfavorito e vabbè i kamikaze i kamikaze attenzione si suicida no non si suicida no ok vabbè qui proprio è andato io ti uccido se dovevi sapere che lo passiamo è che puntavo sui cavalli vabbè provato a prendere qualche frazione più studi dice no comunque in una prossima partita saremo insieme contro tipo i vichinghi e i juni così a caso i vichinghi e i juni i juni mi riprendo io no vabbè se vuoi tutta le juni ok no io i juni a me a me risultati mi piacciono più i vichinghi non so perché mi piacciono i vichinghi sono p i juni che com'è sono op ah non lo sapevo no vabbè non lo sapevo vabbè scudiamo che io ti ho ammazzato tutto sì va bene c'è qualcuno ancora vivo sì c'è qualcuno ancora vivo vabbè uno solo il video termina qui spero che vi sia piaciuto e non ci vediamo una prossima battaglia battaglia comparativa in cui prenderemo e in cui prenderò comunque grazie per aver visto questo video in caso vi sia piaciuto mettendo un bel mi piace commentate vi lascio il link nel canale di manco c in descrizione andate a vedere i suoi video che onestamente sono molto bene devo dire la verità e noi ci vediamo sul prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao